Stasera diamo un premio che poi è il riconoscimento che abbiamo chiamato vent'anni fa Calabria Ambiente veramente ad uno dei massimi archeologi e storici dell'arte mondiale, Salvatore Settis Il professore Settis è di origini calabresi, è nato in Calabria, ha studiato in Calabria e poi invece è andato al nord a completare i suoi studi e poi ha fatto una carriera strepitosa in tutto il mondo è un archeologo, uno storico dell'arte che ci invidiano un po' da tutto il mondo ha lavorato a New York, ha lavorato in Francia, ha lavorato in Germania ha fatto tantissimo per i beni culturali e il paesaggio e negli ultimi anni si è dedicato con particolare acume ed impegno alla tutela dei beni culturali e ambientali in Italia scrivendo dei libri fondamentali su questo tema e soprattutto direi che il merito delle ultime opere di Settis è quello di aver riconnesso il passato al futuro o meglio, il futuro al passato Carlo Levi scriveva in un suo libro Il futuro ha un cuore antico bene, il professore Settis ha tradotto questo titolo nel senso che ha spiegato come dalla decadenza, dalla rovina, dalla distruzione può nascere e deve nascere il futuro quindi un suggerimento, un incoraggiamento ecco, il termine d'atto è incoraggiamento per tutti noi che cerchiamo di costruire il futuro della nostra terra la Calabria in particolare e il suggerimento e l'incoraggiamento è di avere ben presenti le lezioni che ci vengono dalla storia dalla nostra storia quindi imparare a conoscere la storia imparare a tutelare i nostri beni culturali e ambientali e possiamo star tranquilli che facendo questo lavoro di riordino mentale anche psicologico nelle menti di tutti noi parliamo di una sorta di grande recupero della psicologia sociale anche dei calabresi facendo questo lavoro di riconnessione avremo la possibilità di trovare una nostra strada verso la felicità Grazie a tutti!